E' l'unica associazione sportiva che offre corsi gratuiti per i diversamente abili. L'ASD Caccia Grossa Onlus fa svolgere attività sportive disabili di unità e con qualsiasi patologia. Già operativa da diversi anni, la Caccia Grossa Onlus ha ampliato nel corso del tempo il suo ventaglio di attività in favore dei diversamente abili, affiancando una serie di iniziative outdoor come quelle della pesca, ad esempio anche delle iniziative indoor come il volley, il basket facilitati, vari giochi con la palla e anche il tiro a segno soft air. Siamo una Onlus operativa da 12 anni nella regione Abruzzo e praticamente offriamo sport facilitato e gratuito per persone diversamente abili. Le attività sono all'aperto e nel periodo invernale siamo in palestra. In palestra attualmente siamo nel liceo scientifico Galilei, ogni martedì dalle 17.30 in poi, quindi invito le famiglie che hanno una persona speciale a portarli in palestra da noi. E' tutto gratis. E poi abbiamo altre iniziative nella bella stagione, come il meeting insieme a Pesca al Lago Teaterno del 5 maggio. Ma per continuare a garantire un servizio totalmente gratuito, l'associazione ovviamente ha necessità di un sostegno per affrontare anche le spese minime. Da qui l'iniziativa di beneficenza in programma il prossimo 28 febbraio al Teatro Massimo di Pescara con lo spettacolo del duo comico La Lima e la Raspa dal titolo Abbasso la scuola. E' uno spettacolo molto importante al quale si ride perché conosciamo tutti la Lima e la Raspa ma si dà anche un bel contributo al vostro lavoro. Sì, allora il fatto di non far pagare nemmeno un centesimo alle famiglie dei ragazzi speciali è una nostra prerogativa. Ci teniamo tanto perché loro non devono pagare nulla, però ecco abbiamo tante spese per fare queste attività sportive e anche di gestione della onlus e quindi abbiamo bisogno di fare queste raccolte fondi. Grazie a tutti.